dopo l'euro la tentazione dei vincitori l'euro non è l'unico modello di integrazione possibile uscendo dall'euro l'italia dovrebbe comunque farsi promotrice nelle sedi internazionali di una politica di scambi esteri più equilibrati basata sul principio che potremmo chiamare dell'external compact questo approccio che poi descriveremo in dettaglio può costituire la base per il rilancio di un percorso di integrazione europea prima di descrivere nel dettaglio i risvolti di questo approccio alternativo però è utile approfondire i limiti di quello adottato fino a oggi la vera vittima dell'euro è l'europa la gestione del processo di integrazione europea ispirata in teoria e nei discorsi delle conferenze stampa ad alti ideali condivisi ma condotta poi in pratica e nelle stanze di Bruxelles in nome di interessi di classe e strategici particolaristici ha portato dove doveva portare cioè a una lacerazione del tessuto sociale e identitario del continente di proporzioni mai sperimentate dalla seconda guerra mondiale in poi le tante caricature di Angela Merkel con i baffetti che abbiamo visto non solo in Grecia ci fanno capire che la logica imperialistica insita nella gestione dell'euro non è sfuggita ai cittadini che ne sono stati schiacciati il tentativo tuttora in corso di annessione di colonizzazione paludato dietro espressioni altisonanti quali cessione di sovranità, unione politica, più Europa bene, questo tentativo non poteva che promuovere un'ovvia reazione di rivolta che probabilmente è appena agli albori queste cessioni sono asimmetriche come asimmetrica è la logica anzi la morale mercantilista sottostante cioè chi esporta merci è bravo quindi come dire in cambio merita di importare sovranità sugli altri questa gli deve essere ceduta da chi avendo importato merci è stato cattivo e quindi dovrà cedere cioè esportare la propria sovranità naturalmente per il proprio bene è chiaro che però è quello che altri hanno deciso per lui tralasciamo le slealtà, le violazioni dei trattati che sono state necessarie ai bravi per essere tali cioè per riuscire a esportare è chiaro che però su un simile doppio standard su una simile politica dei due pesi e due misure non si può costruire un percorso di integrazione e allora la questione è riuscirà l'Europa a salvarsi dall'euro? probabilmente sì in un'ottica però di lungo periodo siamo pur usciti pagando un conto molto salato dai due precedenti tentativi di aggressione imperialistica del centro combattuti con metodi come dire più tradizionali più cruenti, più espliciti usciremo anche dalla terza guerra mondiale quella dell'euro combattuta subdolamente e ipocritamente in nome di ideali, di pace e del ripudio di un passato vergognoso che forse sarebbe stato meglio tenere ben presente per evitare che si ripetesse ma si sa oggi c'è la Cina oggi è tutto diverso oggi il mondo è cambiato e quindi la storia non ha nulla da insegnarci viceversa il passato ha una lezione molto importante da insegnarci che dovremo tenere ben presente e cioè che gestire una vittoria è più difficile che gestire una sconfitta chi perde ha una missione chiara da compiere piangere le proprie vittime ricostruire il proprio paese sul piano economico spesso questa è un'opportunità ma chi vince deve resistere invece alla più funesta delle tentazioni quella di stravincere non hanno resistito le potenze alleate dopo la prima guerra mondiale schiacciando la Germania sotto il peso dei debiti di guerra contro l'avviso di Keynes il quale nel 1925 si esprimeva in questo modo stigmatizzando l'intransigenza francese alla conferenza di Versailles una politica che riducesse la Germania in servitù per una generazione o che degradasse milioni di esseri umani o che privasse di gioia un intero popolo sarebbe da rifugire e con paura da rifugire e con paura anche se fosse attuabile anche se ci facesse più ricchi anche se non preparasse il crollo di tutta la civiltà europea il risultato è noto ed è stato proprio quello previsto da Keynes si sono alimentati i risentimenti del popolo tedesco ingiustamente oppresso quei risentimenti che poco più di una decina di anni dopo sotto l'ulteriore spinta delle politiche di austerità del cancelliere Brüning furono sfruttate da Hitler nel modo che sappiamo poi non hanno resistito alla tentazione di stravincere gli americani a Bretton Woods nel 1944 al termine della seconda guerra mondiale quando hanno imposto al mondo un sistema monetario asimmetrico perché basato sulla loro valuta nazionale questo sistema avrebbe creato problemi sarebbe stato insostenibile e prima di Triffin se ne era accorto Keynes che faceva parte della delegazione britannica Bretton Woods ma ancora una volta le sue parole non furono ascoltate il risultato fu il Nixon Shock e le successive crisi finanziarie globali in giro per il mondo frutto di un sistema nel quale un paese si è arrogato il ruolo di banca del mondo finché il sistema monetario internazionale continuerà a basarsi sul dollaro per evitare una penuria di liquidità internazionale in cui gli Stati Uniti dovranno mantenere la bilancia dei pagamenti in deficit compromettendo la fiducia nel dollaro d'altro canto ovviare al deficit per rafforzare il dollaro creerebbe problemi di liquidità internazionale questo fatto determina l'immoralità di un sistema che convoglia una quantità enorme di capitali verso il paese più potente del mondo e li sottrae alla necessità delle tante aree ancora sottosviluppate e questo sistema ha portato una volta di più su un percorso instabile la tentazione di stravincere di imporre la propria moneta ha portato ancora una volta su un percorso di grande instabilità a distanza di un secolo dalla prima guerra mondiale la situazione si è rovesciata e la memoria di dove può condurre la cattiva gestione di una vittoria si è persa ed è ora la Germania a esigere l'impoverimento e la degradazione di milioni di esseri umani senza ricordare perché e con chi sono stati contratti certi debiti senza chiedersi se chi deve pagare è in condizioni di farlo e quali politiche possono aiutarlo in tal senso per il bene di tutti e senza ascoltare le voci autorevoli come quella di Helmut Schmidt che dal suo interno si levano per stigmatizzare l'assurdità e la miopia di questo comportamento per la terza volta in un secolo i vincitori in questo caso la leadership tedesca non stanno resistendo alla tentazione di stravincere e così facendo si pongono su un percorso molto instabile in fondo al quale si intravedono due esiti possibili o la colonizzazione dell'intera eurozona da parte della Germania o l'ennesimo crollo della Germania stessa travolta dalla propria vittoria di Pirro ottenuta a prezzo di lacerazioni interne e internazionali è probabile che presto nel giro di pochi anni o forse pochi mesi ci si trovi a dover ricostruire un'idea di Europa e con la sorpresa di molti il vincitore potrebbe non essere quello che tutti si aspettano o magari il perdente potrebbe essere il solito se riflettiamo che il sistema bancario tedesco non è poi così solido e che i mercati sanno che in fondo i Bund i Bund tedeschi sono titoli che rappresentano uno dei più elevati e crescenti debiti pubblici dell'eurozona rappresentano il debito di un paese che magari per salvarsi dal crollo del sistema potrebbe vietare la convertibilità in marchi o nuovi euro ai non residenti potrebbe farsi strada l'idea che per gli investitori è meglio rivolgersi ai guilt inglesi perché gli osservatori sono concordi qualsiasi evento intaccasse l'integrità dell'eurozona farebbe schizzare verso l'alto il costo del debito pubblico tedesco e allora uno stock di debito oltre l'80% del PIL diventerebbe difficile da gestire senza ricorrere a un minimo di inflazione e poi la strategia di compressione della domanda interna attuata dalla Germania che è intrinseca nell'approccio mercantilista e che ha represso per anni gli investimenti fissi nel paese un'ovvia conseguenza del fatto che dal 1995 al 2008 il 76% dei risparmi tedeschi sono stati investiti all'estero ma questo si doveva fare come sappiamo come ci insegna il ciclo di Frenkel questo si doveva fare per assicurare un mercato di sbocco alle merci tedesche ma c'è da chiedersi se per alimentare la domanda estera non si sia trascurato di adeguare l'offerta interna certo il problema si può risolvere delocalizzando ma questo crea a valle ulteriori tensioni sociali nel popolo dei minijobber dei nuovi poveri a 400 euro al mese cioè in sostanza quando il bubone esploderà la distinzione fra vinti e vincitori di questa guerra non dichiarata potrebbe non essere così netta in fondo questa potrebbe essere una buona notizia e cioè forse per una volta per la prima volta in un secolo la mancanza di effettivi vincitori allontanerebbe la tentazione di stravincere forse questo è solo un pio desiderio tuttavia può valere la pena di indicare una possibile strada di reale integrazione ma prima di fare questo in dettaglio chiediamoci ma se avesse funzionato cosa avevano in mente i nostri statisti tra virgolette quando vi ascicavano peace and love persi nelle loro visioni euro-psichedeliche a uso delle telecamere e mentre ci consegnavano e mentre ci consegnavano a questo disastro probabilmente avevano in mente un disegno più o meno consapevole ma comunque leggibile e condiviso su scala internazionale di controriforma dei mercati finanziari e del mercato del lavoro a svantaggio delle classi subalterne ma questo può essere chiaro però c'è da chiedersi e come vedevano come era possibile immaginare il ruolo dell'euro nell'ambito del sistema monetario internazionale perché la logica dell'economia e i precedenti storici non lasciavano aperte tante strade di fatto le poche strade aperte erano tutte senza uscita cioè storicamente l'affermazione di una moneta come standard di riferimento internazionale è successiva all'affermazione economica e militare del paese che la emette ed è strumentale poi alla realizzazione di un'espansione di tipo imperiale della potenza egemone è stato così per la sterlina dopo le guerre napoleoniche è stato così per il dollaro dopo Bretton Woods e su un piano locale europeo anche l'euro ha rivestito un ruolo simile l'euro indipendentemente da quali ne fossero le motivazioni iniziali ha rappresentato nell'ultimo decennio il tentativo della Germania di colonizzare il resto dell'Europa assorbendo nell'area del marco diventato euro paesi fino ad allora mantenutisi all'esterno dell'area del marco e cioè l'estensione all'intera eurozona dell'esperimento riuscito per la Germania ovest di riunificazione con la Germania est la crisi scatenata dall'incapacità del capitalismo tedesco di intuire i limiti del proprio modello di espansione mercantilista ha però reso palese un dato l'euro è la moneta di nessuno stato e quindi non è una moneta i tentativi di costruire poi a posteriori un'identità e una struttura statuale dietro l'euro urtano come abbiamo detto tante volte contro una serie di aporie determinate dalle menzogne e dagli egoismi contrapposti del centro e della periferia dell'Europa più Europa è un mantra privo di significato l'euro è già stato giudicato dalla storia ed è in attesa del giudizio definitivo dei mercati ma se anche così non fosse stato se la crisi non avesse chiamato il blef dell'euro se la crisi non chiamerà il blef dell'euro quali sarebbero state le probabili conseguenze per il non sistema monetario internazionale detto in altri termini quanta lungimiranza esprimeva l'idea che una valuta forte concorrente del dollaro ci avrebbe aiutato a risolvere i nostri problemi abbiamo detto che ad un primo livello quello più ingenuo questa idea si può articolare in due affermazioni contraddittorie quella che l'euro ci avrebbe aiutati in quanto valuta forte ad approvvigionarci di materie prime relativamente a buon mercato e quella che l'euro ci avrebbe aiutati in quanto valuta grande a competere con le economie emergenti però sembra chiaro che se vuoi pagare di meno il petrolio ti tocca far pagare di più i tuoi prodotti finiti il dilemma di Triffin ci aiuta poi ad analizzare più in profondità le conseguenze di un ipotetico successo del progetto euro perché l'euro affermandosi come secondo dollaro si sarebbe trovato a dover fronteggiare le medesime criticità del dollaro in primo luogo la difficile scelta su come dimensionare l'offerta di moneta cioè se riferirla al mercato europeo o alle aspirazioni di egemonia internazionale e nel secondo caso l'Europa avrebbe dovuto mantenere la bilancia dei pagamenti in deficit per assicurare una congrua fuoriuscita netta di euro dal sistema europeo in analogia a quanto accade negli Stati Uniti ma in Europa questo avrebbe determinato l'esplodere di numerose contraddizioni intanto il modello di sviluppo mercantilista della potenza egemone chiaramente preclude la possibilità di operare un deficit persistente della bilancia dei pagamenti a livello di eurozona e un altro problema è causato dalla delirante visione germanica di uno stato virtuoso risparmiatore e privo di debiti visione che abbiamo detto è da applicare a casa altrui e dimenticare a casa propria il motivo è semplice fatti salvi i casi di piccoli risparmiatori occasionali turisti eccetera o magari dei narcotrafficanti chi detiene dollari nel resto del mondo non domanda contante ma titoli denominati in dollari che rendono un alto che rendono un interesse e questo pone un ovvio problema la carta cioè le obbligazioni le azioni che il resto del mondo ti compra quando sei una potenza ecemone qualcuno deve pur stamparla e può essere il settore pubblico o quello privato nel caso degli Stati Uniti la domanda di dollari da parte di operatori esteri incontra un'offerta di titoli denominati in dollari nei quali lo Stato riveste un ruolo importante i famosi treasury bill i bot americani ma nell'Europa del fiscal compact in questa Europa idealmente priva di debito pubblico l'eccesso di risparmio mondiale si sarebbe dovuto rivolgere prevalentemente ai titoli emessi dal settore privato questi da un lato avrebbero offerto meno garanzie agli investitori esteri non essendo coperti da uno Stato dotato di sovranità monetaria e dall'altro avrebbero creato più rischi di instabilità per il sistema finanziario europeo l'abbiamo detto del carattere destabilizzante del debito privato estero quindi la visione ideologica di stampo teutonico avrebbe dimostrato ancora una volta la propria inferiorità rispetto al pragmatismo anglosassone e poi a monte di tutto questo e ritornando in una prospettiva realistica mentre nel caso degli Stati Uniti la relativa debolezza del dollaro determinato determinata dal suo deficit strutturale di partite correnti è compensata dal fatto di avere dietro un paese economicamente e militarmente affermato con un rischio paese nullo nel caso dell'eurozona invece il rischio paese è massimo perché il paese non c'è detto in un altro modo dietro i titoli pubblici europei non c'è uno Stato sovrano che possa garantirli come la crisi ha reso chiaro ed è per questo che le banche centrali esterne all'eurozona hanno adottato un atteggiamento prudenziale verso questa nuova valuta accordandole nei portafogli un peso sistematicamente inferiore a quello che avevano storicamente le valute nazionali della futura eurozona il marco il franco il fiorino l'ecu la lira eccetera ma se anche queste criticità fossero state sapientemente gestite dalla bce se anche la bce avesse saputo fingere più o meno a lungo di essere la banca centrale di uno Stato sovrano quale sarebbe stato l'esito di questa farsa quello di avere sul panorama mondiale un'ulteriore valuta forte richiesta come forma di investimento prudenziale dai risparmiatori dell'economia emergente cioè quello di costituire nei paesi sviluppati accanto agli Stati Uniti un secondo polo di assorbimento di quelle risorse finanziarie delle quali il resto del mondo a partire dall'Africa avrebbe bisogno per vaccinare i propri bambini dare loro acqua potabile e così via cosa pensano di questo risultato certi sognatori progressisti tuttora persi nel loro fumoso delirio di un euro che affratellerebbe i proletari di tutto il mondo anzi di un piccolo pezzo del nord del mondo la loro visione geopolitica globale snobba bollandole come sterile tecnicismo le realtà della macroeconomia la disamina storica che abbiamo compiuto fin qui chiarisce quale sarebbe stato un impegno coerente con certe premesse ideali e ideologiche quello a favore di un sistema monetario internazionale meno asimmetrico e non di un sistema bipolare che favorisse egoisticamente l'ulteriore distacco di chi è già avanti e forse ancora per poco ma perché combattere con dignità la battaglia giusta quando si può perdere con disonore quella sbagliata di chi rischio di chi